Salve a tutti, questa sera vorrei fare un brevissimo video sulle elezioni americane, su chi penso che vincerà tra i due contendenti Obama e Romney. Non farò un'analisi come hanno fatto altri politologi anche migliori di me sul tipo di campagna elettorale, i messaggi, le promesse, tutto quanto. Anche se potremmo dire che per esempio Romney ha avuto questa buttada berlusconiana di promettere 12 milioni di posti di lavoro, potenziando addirittura quello che è stata la promessa di Berlusconi, perché Berlusconi promise un milione di posti di lavoro su 60 milioni di abitanti italiani, Romney ne promette 12 per 300 milioni di americani, il che vuol dire praticamente il doppio. Oppure Obama che comunque si è molto speso per contenere gli effetti dell'uragano che si è portato sugli Stati Uniti, e si potrebbe dire che Obama comunque rimane il nuovo, però al tempo stesso essendo un democratico i democratici hanno sempre fatto molta fatica a essere rieletti. Potrei dire mille cose se spendermi mille riflessioni, non lo farò perché come ho detto ci sono persone che conoscono meglio di me la politica americana. Dirò chi vince e invece darò la mia motivazione perché penso che vincerà. Vincerà Obama e la motivazione per me è molto semplice. Io sto guardando adesso un sito di scommesse online, o meglio l'elenco di un sito di scommesse online, che tra le altre cose, come potete immaginare, permettono anche di scommettere sulle elezioni americane, non neanche la prima volta. C'è un sito che si chiama odshaker.com che elenca tutti i vari siti di scommesse in riferimento a una particolare tipo di scommesse, in questo caso le presenziali americane. Bene, io sto guardando che sulla bellezza di circa 23-24 siti di scommesse, tutti quanti danno vincente Obama e quindi pagano di più se uno scommette su Romney. Addirittura molti siti danno vincente, se uno spunta sulla vincita di Obama, danno di meno di quello che si punta, cioè la posta, uno gioca 10 e guadagna 3. Io adesso sto guardando Bet365 per dirne uno che lo dà da due noni della posta, quindi se noi giochiamo 10 euro per dirne ne vinciamo due rotti. E così via. Questo credo che sia il miglior tornaconto di chi vincerà le elezioni americane, perché non credo assolutamente che i siti di scommesse non abbiano ragionato molto molto bene, con tutti i dati disponibili ovviamente, limitati ma con i dati disponibili, su chi possa essere il vincitore. Perché ovviamente quando ci sono situazioni di soldi dietro, diciamo che l'interesse è per dare una, come dire, evitare di perderne, ma guadagnarne per quanto riguarda i siti di scommesse. Io vi sto anche in altre situazioni in cui magari non era così chiara il risultato, i siti di scommesse tendono a sapere prima, proprio perché è il loro grande interesse economico e di sopravvivenza appunto prevederebbe nel futuro. Quindi io do per vincente sicuramente Obama. Non so se vi dovrà scommettere, visto che vedo che quasi tutti i siti pagano di meno di quello che si scommette, quindi se trovate qualcuno con cui scommettere, che vi dà di più della posta, il mio consiglio è di scommettere. Bene, ci rivedremo tra qualche giorno per vedere se ho avuto ragione. Intanto tanti saluti dall'America, come potete vedere, e alla prossima!